Buondì! Me lo aspettavo, Anna, vieni qua! Dai vieni qua, ti faccio vedere cosa ho comprato! Finalmente dopo anni sono riuscito a togliermi uno sfizio che è la stampante 3D. E oggi scopriremo insieme che cos'è una stampante 3D con Anna! No! No, no, non ci voglio centrare! No, 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 non ci voglio! Anna! No! Dammi una mano! Ti pago! Quanto? Quello che guadagna su YouTube! Magna! Dai, Anna! Dai, no! Anna, dai! No! Anna, 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 Anna! La più bella noncina almeno! Beh, dire buondì! Allora, io, io... Bella felta! Grazie! Non affondare così tanto la lama che magari... Non affondare così tanto la lama! Beh, vabbè, dai! Devi spiegare cosa è una stampante 3D! Allora, è una stampante 3D? Si! Dai, fanno tu, Davide! E lei è già rotta! Motore! Guida! Guida! Cosa? Tu serve? Per guidare! Un biscotto quando si bagna... Gocciola! Vai, raccontagli le barzellette che hai scoperto! Il deserto del Sara è in Africa! E su questo non ci piove! L'auto più bella è la Fiat! Non pigarlo! Punto! L'auto più bella! Né il quale c'è! M'ha montato un pezzo! Papa, non è divertente! Pausa cena! E dopo aver mangiato torniamo al lavoro No Pensavi mi fossi scordato No spero stessi facendo da solo No 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 andiamo Anna 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 No Vuoi che te lo dica in spagnola? No Anna 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 Mi piace Sono bellissime Dai andiamo Anna 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 Ti aspetto là Dai Anna sei felice? No voglio morire E' quasi finito Che cosa sono Anna? Non zumba? No Prova metterci questo Ma ce lo metto No dove l'ho messo? L'ho messo davvero qua Davvero Come il rotolo della carta igienica Lui mi prende Siamo riusciti a finirla Anna Ora Tacca la presa Come la mia presa della borsa Della calda Questa qua su la evitate tu Ma sbucca un fuori Anna Anna dai Dai Non scopisco niente No vai tranquilla Vai fai quello che ho voluto fare dall'inizio Questa cosa è bello Allora Vuoi andare a letto? Sì Dai allora facciamo così Domani il progetto No Sì Buona notte No Cosa vuoi? Lasciami la mia tana Anna Ti ricordi cosa dovevamo finire? Ma non l'hai già finito Eh no Devi non testarlo No Dai non me lo faccio No no dai davvero Lasciami sta cazzo di luce Non lo faccio No Pensavo Perché ci stavo pensando Ma il tuo mano finisce il video Dai Pensavo non lo facessi Anna Orche Anna Te lo faccio Anna 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 Non lo faccio Anna dai E davide no Anna 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 dai Anna Anna dai No E con le mie arti super persuasive Sono riuscito a convincerti Oh no Anna Ci vedi? Part assembly drawing Present action Allora facciamo così Ti insegno anche a disegnare Ai Tipo Ti insegnerà Il disegno 3D Per progetti pensati Realizzati da Anna Seguiteci per altre avventure Si parte Da uno schizzo 2D Disegna quello che vuoi Cosa vuoi disegnare? Una linea Un cerchio Boh Dive cosa ci vuoi fare Ci vuoi fare un Ci vuoi fare un No 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 Vuoi scavare Farlo vuoi Ma sono C'è un C'è un cos'è bello Una stella Un cuore Allora fai il disegno un cuore Fai così Vero? Si Come lo vuoi fare? Come lo fai un cuore? Come si fa un cuore? Al culo Allora Faccio vedere Non so come si fa un cuore No lo so Allora Devi farci le orecchie Così Fai una linea dritta Così Facciamo un cono gelato C'è un cono gelato Sempre tre gusti Un cono gelato Feli Circol? Si Cosa vuoi fare? Il terzo gusto Ho pagato tre euro Pagato sei gusti Spostalo Spostalo Cosa? Quattro Allora No Dai Fai il cerchio Ma io voglio un gelato Allora fai il cerchio Che sballo Basta Mi avevi detto cinque minuti Sono passati Mi ci hai messo un sacco Anna Sono mio pezzo Fai la tua A o Anna Ma è mano libera? Si Devi far tante linette Dai Davide basta Allora E' veloce Che fretta c'era Maledetta primavera Stato in miss A me ne sa che ho posizionato Quanto fretta Ma dove corri Dove vai Mi vorrei proprio sparare Un colpo in testa Arriverò alla fine Ma non sarà alla fine Aspetta Ti lascio da solo con la videocamera Quello che fai Lo posso usare contro di te Davide puzza E Davide mangia i pastoncini di riquirizia Si sente Si sente un castoro probabilmente Che cosa hai combinato? Niente Zip Ho finito la voglia Non ce l'ho mai avuta Hai più caduto una volta? Dai 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 Andiamo Sei contenta? Guarda che figata Anna Allora Accendi Allora staremo per assistere Alla prima realizzazione Del disegno tecnico E stampa 3D Dell'Anna Sei contenta? No Ora schiaccia il tasto centrale Cuore Anna Schiaccio ok? Dai a mettere il video E' una cosa che hai fatto tu Dai Anna Non ritieni che sia una cosa affascinante? Mi sto commuovendo Mentre aspettiamo la stampa Dai Credo di aver sbagliato qualcosa nella stampa E' terribile Vai vai Anna ma è bellissimo Stamente che è stata colpa mia E ho sbagliato Ci vedo che ho sbagliato le proporzioni Nonna Selvatica che sta cercando di capire com'è la sua forma Eh? Com'è? Oh ma è pazzesco Mi sembra un poccio No Anna Non essere così negativa Boh guarda Allora ha finito di stampare Basta Beh hai finito di stampare Basta Anna Questo è il tuo primo pezzo meccanico Dopo questa fantastica esperienza Molto produttiva Basta Ciao Ciao